ciao sono marco e se stai cercando assistenza wordpress online sei capitato nel posto giusto ti dico subito perché ho creato questo video apposta perché se appunto stai cercando dell'assistenza e ancora non l'hai trovata o non sai appunto come risolvere i tuoi problemi innanzitutto ti consiglio di dare un'occhiata a questo canale che gestisco io e dove puoi trovare un sacco di tutorial di guide gratuite di sistemazioni di diciamo errori che puoi trovare su wordpress e risolvere e quant'altro se ancora quello che stai cercando non è stato diciamo non lo hai trovato in questi video voglio raccontarti brevemente un attimo qual è la mia esperienza e dirti perché potresti rivolgerti a me e ad il mio staff per risolvere i tuoi problemi su wordpress allora io ho iniziato la mia carriera lavorativa quasi ormai più di 15 anni fa lavorando per alcune aziende come sviluppatore successivamente ho intrapreso la carriera da freelance e poi al giorno d'oggi gestisco un'azienda con due soci dove ci occupiamo di sviluppo di temi e plugin per wordpress puoi vedere alcuni dei nostri lavori qua sotto in descrizione ti metterò tutti i link che ti possono servire sia per richiedere un diciamo un preventivo sia per richiedere determinate consulenze che abbiamo già pronte e quindi puoi decidere tu appunto come richiedere la tua assistenza wordpress presso di noi spero che questo video ti sia d'aiuto se c'è qualcosa che vuoi chiedermi ti consiglio di scrivermelo qua sotto nei commenti di modo che vediamo se più riusciamo ad aiutarti e comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao